campione di premere tasti 2014 ancora imbattuto dall'italia orgoglio nazionale i programmi di microsoft sono contento campione ma da quanto è che battiò il mio ovo si è stangato non è così così per mettere a fuoco così per mettere a fuoco così è perfetto bella sta schifo questa ma cos'è il reflex imparerò a usarla prima fare così mi sembra sono sicuro che chiunque abbia pigliato in mano questa cosa che metta a fare così no perchè troppo bella mi veniva davanti e inizia la fuoco bellissimo effetto bello guarda che dai testate alla povera vittima guarda bellissimo ti puoi mettere fuori fuoco al massimo così tipo puoi fare lo zoom qui c'è la sofferenza visiva guarda quindi come si chiama fa leggi quale è difficile non vadovo no gotita e che è gallegge lo che dico su youtube ti mettono il campione di avventura avventuriero dei tasti alessio l'esploratore esploratore dei tasti classifica mondiale primo posto scusa 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 ma io piango ah beh oh no ah beh beh ecco